Non c'è pace per via Colonna e via Appia. Un nuovo guasto nel cantiere dell'Eav presente alle colonne tra Melito e Sant'Antimo ha provocato la chiusura del tratto di via Appia dal centro commerciale Il Molino sino all'ingresso dell'asse mediano con via Gioberti. Nel corso dei lavori ieri pomeriggio sarebbe stato danneggiato il sistema fognario provocando una copiosa perdita d'acqua. Sono state così avviate le verifiche e la ditta che si occupa dei lavori sta provando a capire dove sia il guasto. Non è ancora noto quanto tempo sarà necessario per il ripristino. Da questa mattina la zona è completamente nel caos, automobilisti imbottigliati nel traffico per percorrere pochi metri. Non si cammina proprio. Da quanto tempo è nel traffico? Un quarto due. Sul posto già da questa notte gli agenti della Polizia Municipale di Sant'Antimo guidati dal comandante Raffaele Vicchiariello per interdire la zona al traffico veicolare. Completamente bloccata via Gioberti che è l'unica strada percorribile per chi proviene dall'asse mediano per raggiungere Giuliano Centro. A Giuliano non può sì, a me non può sì, se non c'è fuori per me. A Giuliano non può sì, a me non può sì, se non c'è fuori per me. A Giuliano non può sì, ma lì non c'è fuori per me, ma lì non c'è fuori per me. A Giuliano hanno detto che le vici stanno fuori per me. Però guardate, la dottoria è uno schifo, a tre, quattro, cinque anni non fornisce.